L'oristecca dovrà tornare in carcere. L'ex pugile riminese, campione del mondo nell'84 dei pesi supergallo WBA, ha perso l'ultimo round con la giustizia. La Cassazione ha infatti confermato la sentenza di condanna sia in primo grado che in appello di 8 anni e 5 mesi per l'intentato omicidio dell'ex soci in affari Roberta Chester. Per l'ex campione che è trascorso circa un anno in carcere ed è poi stato messo ai domiciliari, adesso si riapriranno le porte del penitenziario riminese dei Casetti dove doveva scontare la pena residua. La vicenda risale al 27 dicembre del 2013 quando nel corso di una lite con la donna nella palestra di Viserba gestita dai due, Stecca aveva colpito la Chester con un coltello. Il fendente l'aveva raggiunta all'addome ed era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dagli infermi in gravi condizioni. L'ex pugile invece era rimasto sul posto ad attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. L'oristecca attualmente lavora in una cooperativa riminese nell'ambito di un progetto di reinserimento sociale, sistema casse di frutta e verdura sugli scaffali e scarica i camion, 26 euro a settimana per un compenso mensile che si aggira sui 400 o 500 euro. Occorrerà qualche giorno per sapere quando Stecca dovrà tornare in carcere e per conoscere a quanto ammonta la pena residua da scontare. Potrebbero rimanere all'ex campione a meno di quattro anni, a meno tre scatterà la possibilità di ottenere di nuovo l'affidamento in prova ai servizi sociali. A Stecca potrebbero restare da trascorrere in cella tra gli otto e dieci mesi. Quel che rimane potrebbe farlo in affidamento, ma sono solo ipotesi. L'ordine di esecuzione del provvedimento è atteso a giorni.